Un aiuto in favore di microimprese e piccole e medie imprese che gestiscono impianti sportivi pubblici e che hanno subito un calo di fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. E' questo l'obiettivo che la Regione Calabria intende perseguire con una nuova manifestazione di interesse. Possono presentare la candidatura il Comune della Calabria con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in cui siano ubicati impianti sportivi pubblici gestiti da soggetti privati. Siamo intervenuti di recente con apposita delibera di giunta, afferma l'assessore regionale allo sviluppo economico Fausto Orso Marso, per ristorare settori produttivi tra cui aeroporti, discoteche e cinema, ma abbiamo anche pensato ai 322 comuni della Calabria al di sotto di 5.000 abitanti, dando circa 12.000 euro ciascuno per sostenere alcune attività. In questo bando, continua l'assessore regionale, offriamo misure di aiuto a micro-imprese e piccole e medie imprese che gestiscono impianti sportivi pubblici, nel tentativo di dare un segnale di ripartenza, un modo indiretto per sostenere i comuni che non vedevano finanziamenti in questo ambito da tanti anni. I comuni, così individuati, viene specificato nella nota stampa dell'ente regionale calabrese, dovranno predisporre un apposito avviso pubblico per selezionare i beneficiari del contributo, secondo criteri correnti con quanto previsto dalla stessa manifestazione di interesse e secondo le modalità fissate dagli stessi.